Nel 2010 e nel 2011 avrebbero disposto la corresponsione dell'indennità di risultato nei confronti dei dirigenti del Consorzio Asi di Potenza per un totale di 99.000 euro senza verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Con questa accusa gli ex commissari del Consorzio Alfonso Ernesto Navazio e Donato Paolo Salvatore e gli ex direttori generali dell'ente Alfredo Rocco e Mario Cerverizzo sono stati condannati dalla Corte dei Conti a risarcire una cifra complessiva vicino agli 80.000 euro. Il collegio ha infatti decurtato del 20% la richiesta avanzata dal vice procuratore regionale Ernesto Gargano. L'instruttoria della procura contabile era stata avviata nel 2012 dopo un esposto anonimo che segnalava presunti comportamenti illeciti nell'erogazione della premialità di risultato. Le due delibere finite nel mirino della Corte dei Conti sono quelle del 23 marzo 2010 e del 12 aprile 2011. La prima adottata dall'allora commissario del Consorzio Navazio con parere favorevole del DG Cerverizzo con la quale venne liquidato l'importo di 41.400 euro. La seconda adottata dall'allora commissario Salvatore con parere favorevole del DG Rocco con la quale venne liquidato l'importo di 57.625 euro. Il collegio della Corte dei Conti, tenendo conto del particolare e difficile contesto in cui i convenuti si sono trovati ad operare nel periodo dell'esame, ha rivalutato il danno provocato dalle due delibere rispettivamente in 33.120 euro e 46.100 euro. Per la prima, Alfonso Ernesto Navazio e Mario Cerverizzo sono stati condannati a risarcire 16.560 euro a testa, mentre per la seconda, Donato Paolo Salvatore e Alfredo Rocco dovranno risarcire 23.050 euro pro capite. Per gli imputati ci sarà la possibilità di appellare la sentenza emessa dalla Corte dei Conti.